Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi videotubisti Volevo proprio ringraziarvi di essere ancora una volta qui con me E' saltata l'introduzione ma chi se ne frega volevo semplicemente ringraziarvi per il fatto che mi seguite Mi seguite sempre e anche a luglio con un cazzo di caldo incredibile siete qui Grazie, grazie mille ragazzi Di cosa volevamo parlare? Bene, siamo sempre su Cube World Mi sta rubando molto tempo perché lo trovo veramente eccezionale Molto appagante, molto divertente ragazzi Restituisce sensazioni veramente divertenti Volevo sfruttare questo piccolo video per chiarire un po' che cosa sono questi cubi Che tipi di cubi abbiamo a che fare Allora ragazzi iniziamo subito con il Wood Cube Il Wood Cube praticamente è il cubo di legno Questo serve principalmente Viene droppato da una specie di cespugli che trovate in giro insomma Oppure droppato anche da qualche mostro, da qualche mob A cosa serve? Serve per aggiornare le armi praticamente di legno Come le staffe, le mazze per i maghi e anche gli archi e le balestre Insomma quindi anche per quanto riguarda il Ranger Va utilizzato quello che è il legno Passiamo subito poi c'è un altro tipo di cubo Che è l'Iron Cube Praticamente il cubo di ferro E come quello di legno A che cosa serve? Serve praticamente sempre per potenziare Praticamente le armi Come spade I mates, come si chiamano Le mazze ferrate insomma Gli scudi I coltelli del Del rogue insomma E quindi molto molto importante E dove lo trovate? Lo trovate sempre nelle miniere Trovate il Minerali Iron Praticamente Che praticamente una volta distrutto Vi troverete questo cubo Iron Cube Che praticamente serve per Come avete visto nell'altro video Per personalizzare l'arma E anche potenziarla insomma Poi abbiamo il Silver Cube Praticamente A che cosa serve? Serve sempre per potenziare Ma questa volta non tanto le armi Ma quello che riguarda i braccialetti d'argento Insomma quindi La possibilità di dare supplemento A quelle che sono le caratteristiche Scusate del personaggio Come Più velocità Che ne so Più forza E via discorrendo Quindi Questi li trovate sempre Vengono droppati sempre Nelle grotte Ci sono proprio i minerali di silver Che voi distruggerete E verranno fuori questi Silver Cube Che potete utilizzare sempre Sull'incudine L'envil Praticamente nel villaggio Sempre per creare queste forme di braccialetti O collane In argento Poi c'è il cubo Il Gold Cube Praticamente giallo Di colore giallo Il cubo Diciamo D'oro E anche questo serve per potenziare Praticamente sempre braccialetti Collane E via discorrendo Con le stesse Praticamente Caratteristiche Però Al differenza di quello d'argento Se non sbaglio Potete Inserire anche altri oggetti Incastonare delle pietre No Probabilmente si possono incastonare anche nei Silver Cube Non so ancora come ma credo si possa fare Quindi Trovate sempre nelle miniere Questi minerali Da distruggere Gold E dove verranno fuori fuori Una volta distrutti questi Gold Cube Gialli Che vi permetteranno di Personalizzare braccialetti Collane E via discorrendo sempre Nel villaggio Poi parliamo di una cosa molto importante I cubi che servono per Potenziare Potenziare ragazzi In una maniera incredibile Le vostre armi E stiamo parlando Del Il cubo Fire Spirit Che è di colore arancione Praticamente Che cosa fa? In realtà è di colore rosso Arancione Insomma Un po' indefinibile Però vabbè Il Fire Spirit A che cosa serve? Serve Aggiunto ad un'arma Per esempio Ad infliggere Un danno Aggiuntivo Sull'obiettivo In genere Questo cubo Come viene Droppato Da Da boss Oppure Di alcuni Mob Particolarmente Rari Poi abbiamo L'Ice Spirit Che è di colore azzurro E Anche detto Light Blue Un colore Praticamente Azzurrino Come dire Forse Napoli Scusate Praticamente Che cosa fa? Che caratteristiche ha Il potenziamento? Praticamente Decrementa Sull'obiettivo La velocità Di attacco E la velocità Di movimento Praticamente Rallentate Sia il movimento Di attacco Che di camminata Di velocità Insomma Per sfuggirvi Quindi è molto importante Viene droppato Sempre da boss E da rari Mobs Insomma Poi c'è Un altro cubo Che si chiama Un Holy Spirit Praticamente È un cubo Verde Diciamo Verde chiaro Che praticamente È molto interessante Perché serve a potenziare Le armi Anche questo Ma che cosa fa? Assorbe Praticamente La vita Dal vostro Obiettivo Dal vostro target E ve la dà A voi Praticamente È una figata Gli date una botte Assorbe una piccola Quantità di vita Che vi restituisce Addiziona la vostra vita Non so se mi sono spiegato bene Mi sono credito Mi sono spiegato Una chiavica Però Sono confidente Che voi siete Intelligentissimi E avete capito Quindi praticamente Che cosa fa Questo Light Green Un Holy Spirit Praticamente assorbe La vita Dell'obiettivo E ve la regala A voi Una figata Tremenda Poi abbiamo Il Wind Spirit Che è un Praticamente Lo spirito del vento Insomma Che è di colore bianco Praticamente Che cosa fa? Incrementa Praticamente Gli attacchi La velocità Dei vostri attacchi E la Velocità Dei vostri movimenti Insomma Aumenta sia La velocità Dell'attacco Che dei vostri movimenti E' molto interessante Viene sempre droppato Da boss Particolari E mob Alcuni Molto Molto Diciamo Alcuni Molto rari E con questo Veramente Penso di aver fatto Ordine Per quanto riguarda Tutta questa serie Di cubi Che sono Importanti Sono la materia Prima Del mondo Di cube world Praticamente Capire Di cosa Si sta parlando È fondamentale Anche perché In futuro Saranno aggiunte Tantissime future Si parla addirittura Di costruire Delle casi Permanenti Proprio vostre Sul territorio Quindi deve essere Veramente una cosa figata E Una figata incredibile Quindi Vediamo come si evolverà Questo gioco Che premette Veramente tanto Per adesso È tutto Mujahideen L'ultimo dei talebani Napoletani Vi saluta A presto E ciao E cosa ci fate qui Vi avevo appena salutato E siete ancora qui con me Vi ringrazio ragazzi Siete incredibili Siete incredibili Grazie mille ancora Mujahideen Questa volta Passa E chiude Ciao Ciao Siete ancora qui Ancora qui con me Incredibile ragazzi Grazie 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 mille Va bene Questa volta Saluto Definitivamente Con questo È veramente Tutto Mujahideen L'ultimo dei talebani Napoletani Per l'ultima volta Vi saluta A presto Grazie E ciao 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 Ciao